L'Apple Vision Pro si rompe veramente? Questo pazzo ci ha provato, ha fatto vari drop test per vedere la resistenza dello schermo davanti, del vetro Ed è più resistente di quello che pensassi Primo drop test sul tappeto, non succede niente, lo schermo resiste ed è ancora perfettamente utilizzabile Secondo drop test direttamente sul pavimento da un'altezza di circa 2 metri E non succede niente, è ancora perfettamente utilizzabile Da circa 2 metri e mezzo, stesso drop test, sempre di vetro, non succede niente, è ancora perfettamente utilizzabile Però lui sale ulteriormente Cosa che cambia drasticamente nel momento in cui lui proprio dal soffitto, da circa 3 metri Come vedete la parte esterna è totalmente detonata, invece lo schermo interno è quasi totalmente intatto Questo significa che l'Apple Vision Pro ha una sorta di protezione esterna per evitare di far scoppiare il vetro E considerate che comunque l'ha tirato da 3 metri, difficilmente vi cadrà da 3 metri Però come vedete la parte che conta è quasi intatta Ma secondo te